Piave Digital Agency, un'agenzia giovane che si occupa di comunicazione politica e istituzionale, arriva a Fano con NetPolitics, la summer school organizzata in collaborazione con il comune di Fano e l'assessorato ai servizi bibliotecari che si terrà dal 14 al 17 luglio alla Mediateca Montanari. Ecco, di che cosa si tratta e a chi è rivolto questo appuntamento? È una summer school sui temi della comunicazione politica ed elettorale che si rivolge a giovani amministratori ma anche giovani professionisti del mondo della comunicazione. Saranno quattro giorni di formazione con docenti della nostra agenzia ma anche personale esterno e una serie di ospiti con l'obiettivo di fornire un'esperienza a tutto campo su quello che sono i temi del mondo della comunicazione politica ed elettorale e insomma di tutte le altre realtà trasversali a questi. Abbiamo raccolto una trentina di iscrizioni come era insomma nei nostri obiettivi accanto a quelle che appunto saranno le attività formative proposte ai nostri iscritti abbiamo comunque pensato di organizzare due serate aperte a tutta la città di Fano e appunto saranno le serate del 15 luglio e del 16 luglio due appuntamenti diversi, due modalità di serata diverse quelle del 16 con Pippo Civati che proporrà il Comizio Culturale che è una sua esibizione in collaborazione con We Reading mentre nella giornata di sabato abbiamo un talk sui temi della comunicazione politica con Matteo Repore, sindaco di Bologna, Baran Domenifeu, europarlamentare e altri amministratori più o meno del territorio che si confronteranno con Giorgia Carofiglio appunto su queste tematiche qua. Chiaramente sono appuntamenti aperti, si svolgeranno le ore 21 qui nel cortiletto della Mediateca Montanari e chiaramente tutti coloro che sono interessati possono partecipare e noi vi aspettiamo. Grazie a tutti.